Amen Sba sconfitta 70-54 a San Laurentino dal Bama Alto Pascio nella penultima giornata della prima fase del campionato di Serie C. Gli Amaranto sono apparsi in una squadra ben diversa da quella vista sette giorni fa a Terra Nuova e hanno giocato con determinazione e un buon approccio mentale questa partita. Gli Amaranto, già privi di Marmorini, sono costretti a rinunciare anche a Cutini per una distorsione alla caviglia nei primi minuti del secondo quarto. Nonostante ciò, la formazione a Retina è partita concentrata, cercando di limitare per quanto possibile realizzatori ospiti Paci e Benini. La Sbado, per aver chiuso sotto di sei il primo quarto, non era riuscita però a demordere ed è andata avanti all'intervallo lungo sul 29-32 grazie a una buona attenzione in fase difensiva. Nella ripresa il copione della gara non è cambiato, con Alto Pascio è riuscito a operare il break decisivo con i punti di Paci e la reattività di Florindi. I Lucchesi hanno allungato a inizio ultimo quarto, portando il proprio vantaggio in doppia cifra, sfruttando anche i numerosi viaggi lunetta conquistati. A fine gara saranno 37 i tentativi ospiti ai liberi contro gli otto dell'Amen. Gli ultimi minuti servono soltanto per fissare il punteggio sul 70-54, con gli ospiti che festeggiano l'ingresso tra le prime otto della classifica e la Sba che dimostra un atteggiamento positivo che potrebbe portare, se replicato, buone indicazioni nella seconda fase del campionato. Nelle file a Maranto da segnalare i 16 minuti sul parquet di Mordini, classe 2000, che sta prendendo confidenza anche con la Serie C, dopo i bottini messi a referto nei campionati giovanili, dove in più di un'occasione ha superato i 40 punti. Dopo il positivo esordio dell'ultimo turno, una conferma anche oggi con una bella realizzazione, abbiamo Matteo Mordini, qui poco più che 15enne, un giovanissimo che si sta facendo strada. Sicuramente ci tenevamo a vincere l'ultima partita in casa della stagione, non ci siamo riusciti, però abbiamo combattuto fino alla fine, era quello che c'è chiesto il coach, comunque abbiamo provato a fare. Loro avevano giocatori sicuramente di livello, come Paci, che abbiamo provato a marcarlo per tutta la partita, ma non ci siamo riusciti. Però comunque sono contento di giocare in questa categoria, come hai detto te, a poco più di 15 anni e spero di continuare anche il prossimo anno e comunque porto soprattutto con me l'esperienza anche nei miei campionati e con le mie squadre. Che esperienze hai trovato qui ad Arezzo? Che città hai trovato? Sicuramente una grandissima città, con persone che mi hanno accolto benissimo, fin dal primo giorno, cose che magari l'anno scorso andando alla Virtus Siena non è successo, però sono contento soprattutto per l'accoglienza che mi hanno fatto e devo ringraziare veramente tutti, soprattutto il presidente, l'allenatore, Jacopo Vignaroli, che comunque mi seguono tutto il giorno quando mi alzo e vado a scuola a quando torno a casa e devo veramente ringraziarli e tutto lo staff.